ciao amici bentornati sul mio canale oggi vi voglio mostrare in questo video che non sarà troppo lungo ve lo prometto le ultime creazioni di questo periodo ovviamente sono tutte a tema cancelleria e come potete notare il grosso sono midori vediamole subito insieme partendo dall'unica che in realtà midori non è è un quaderno ad anelli formato a 5 sono partita da un vecchio quaderno probabilmente risalente al tempo delle superiori che io ho voluto trasformare in questo modo il set di carte l'ho preso da etsy e ho aggiunto delle immagini prese da pinterest per completare l'operazione vi mostro qui come era il quaderno prima del lavoro ecco allora non ho fatto altro che ricoprirlo interamente di gomma crepla per farlo diventare così cicciottello e poi l'ho rivestito con appunto il set di carte che mi piaceva tanto gli ho creato una chiusurina con questo elastico e un fermacampione l'interno l'ho fatto in questo modo ho applicato sempre con la gomma crepla rivestita delle tasche sia davanti che dietro ho fatto la stessa operazione solo che qui non ho non ho fatto nessun tipo di taglio mentre invece qui ho fatto dei tagli in questo caso ci ho messo sulle clip ma possono essere usati per infilare qualche foglio qualche documentino le clip le immagini delle clip le ho prese da pinterest le ho stampate plastificate e poi ritagliate incollate con la colla caldo sulle sulle graffette ho fatto dei dei divisori queste sono immagini prese da da pinterest qui dietro ho lasciato bianco e ho applicato dei dei post it poi non so se ne applicherò degli altri qui salto perché ci sono degli appunti perché lo sto utilizzando come come quaderno per per il lavoro qui un altro divisorio sempre dietro le carte di pinterest e qui invece ci sono solo fogli bianchi qui in fondo ho creato una tasca si sta già staccando gli ho messo un segna pagina ma per il momento lo lascio appoggiato qua dentro sempre fatto con le stesse carte ovviamente anche queste carte qui sono prese da da etsy queste non le ho né plastificate né ricoperte con la carta adesiva le ho lasciate così a cartoncino provo a vedere se non si distrugge insomma con con l'utilizzo e questo è il primo lavoro che ho che ho fatto in questo periodo e poi vediamo le midori passport il formato classico vi metto in descrizione le misure ma sono proprio quelle appunto classico del formato passport non ho non ho fatto variazioni iniziamo da questa le carte le ho prese sempre da etsy gli ho applicato una nappina di abbellimento e all'interno l'ho fatto così gli ho fatto una taschina sempre fatta di gomma crepla con la carta applicata in questo caso qui ho utilizzato un quadernino di quelli formato appunto passport della traveller's notebook ok e l'ho semplicemente ricoperto con con la carta senza però classificarla mi piaceva questo effetto un po un po pacco un po rovinato le clip le ho sempre fatte io con in questo caso con dei pom pom qui l'ho fatto con un macaron qui ho stampato sempre una di quelle carte su una velina un vellum insomma non so come come si chiama in questo tipo di carta qui gli ho fatto un inserto questo è totalmente ricoperto dalla plastica adesiva e sono due due bustine per inserire qualcosina insomma qualche documento qualche card questo è il retro del vellum di prima qui invece ho utilizzato l'avanzo di un foglio della plastificatrice e ho creato queste due buste in una ci ho infilato questo questo foglietto ma è giusto di bellezza perché poi quando e se verrà utilizzata questa questa midori ciascuno inserirà quello che vuole e qui dentro invece ci ho messo questa sempre una carta con questi sacchetti dello shopping e infine gli ho inserito un altro quadernino stessa tecnica di prima ricoperto appunto con uno dei fogli di etsy non plastificato questo quadernino l'ho fatto io è semplicemente tagliato di misura ma la carta è una carta da riciclo la seconda midori passport invece l'ho fatta con immagini prese da da etsy in questo caso ho stampato una cartina geografica e l'ho applicata come come copertina perché questa midori qui l'ho fatta per me e la voglio utilizzare nei miei viaggi quindi mi sono creata una taschina all'inizio fatta sempre con un avanzo della plastica della plastificatrice qui ho fatto un quadernino con questa immagine della gmg di lisbona perché mi serve per un per un evento e poi ho creato in questo caso ho creato nel senso che non è tipico delle midori questo inserto che da un lato ha un porta carte l'ho fatto proprio di misura per le carte di credito o cose del genere vi faccio vedere qui con la tesserina della benetton vedete che ci sta perfetta ce ne sta ovviamente più di una perché mi sono immaginata di poterle portare in viaggio e ho utilizzato questa pateletta come diciamo possibile chiusura tenuta insieme dalla dalla graffetta poi non so se se ci farò qualcos'altro da questo lato invece ho creato questa specie di busta con la chiusura perché qui dentro metterò le banconote ed eventualmente qualche monetina senza appesantire troppo altrimenti penso che si dispia anche visto che è fatta di carta qui dietro un altro quadernetto questo l'ho fatto sempre io e a quadrettini l'ho ricoperto con questa con questa carta adesiva sempre presa da pinterest con tutti questi timbri di viaggi timbri postali insomma molto carino e in fondo ho lasciato questo inserto con due tasche per poter mettere dentro qualche piccolo documento gli ho fatto il soffietto penso che lo decorerò per ora non mi è ancora venuto in mente nulla altra midori questa mi è stata commissionata per un regalo la persona che me la commissionata ha scelto su etsy le carte e io ho semplicemente fatto il lavoro sempre fatta con gomma crepa la classica tecnica nessuna tasca sul davanti questa come formato è una a 6 probabilmente più piccolina rispetto ad altri quadernini a 6 di quelli che si comprano al supermercato in cartoleria perché mi sono accorta che questi quaderni che ho utilizzato di cui ho sostituito le copertine sono ad esempio un pochettino più piccoli di quelli della monocromo quindi di questa non vi metto le misure perché vi consiglio di avere prima in mano i quaderni e verificare la corretta misura della copertina vi ripeto avessi usato i quaderni della monocromo avrei dovuto fare la copertina un pochettino più grande quindi tornando a noi questi sono quadernini appunto acquistati in cartoleria io ho stampato da etsy queste queste copertine le ho semplicemente applicate al mio quadernino in questo caso ho fatto un'operazione che solitamente non faccio ho tolto le graffette per togliere la copertina quella originale del quadernino e le ho reinserite esattamente dove erano prima per bloccare la mia la mia nuova copertina di solito le copertine le lascio libere non sto neanche a bloccarle non mi interessa tanto comunque sono ferme con gli elastici però dovendo regalare questo questo quadernino ad un'altra persona ho pensato di bloccarle ho provato così qui ho fatto un altro inserto simile a quello della midori da viaggio però gli ho creato sulla pateletta quella che si che si muove questa taschina con il soffietto per mettere qualche documento all'interno ho preso un pezzo della della stampa l'ho plastificato con la plastificatrice e gli ho fatto questo questo piccolo angolino per infilare sempre documenti e poi ho ricreato quella busta che avete visto prima con la chiusura e il soffietto è fatta in questo modo questa si chiude così e qui c'è l'ultimo quadernetto sempre fatto come quello di prima sostituendo la copertina e riutilizzando le graffette originali in questo caso ho creato anche questa carta plastificata che funge da segna pagina e da blocco per il portapenna ho chiuso il il quadernetto con questa taschina sulla copertina l'ho lasciato volutamente molto semplice perché così mi era stato commissionato non ho messo la nappina non ho messo nulla in questo qui non ho messo la nappina non ho messo dei charm perché appunto immaginando di portarlo in viaggio penso che a malapena terrò questi queste graffette perché ho paura che poi nello zaino mi si impigliano mi si rovinino quindi probabilmente le toglierò anche però a maggior ragione non ho proprio voluto decorare all'esterno con nulla perché andrà a finire dentro nello zaino ultimo lavoro di questo periodo fatto con tutti gli avanzi dei cartoncini delle carte dei foglietti che ho utilizzato per tagliare le pagine e questa micro midori a differenza delle altre non è fatta con la gomma crepla ma è fatta proprio con il cartoncino dove ho appiccicato una stampa di pinterest e l'ho plastificata questo è un adesivo che ho attaccato sopra la stampa prima di plastificare così diciamo che non non se ne viene via all'interno gli ho creato queste taschine e ovviamente si vede che sono tutti pezzi avanzati e gli ho fatto questi micro quadernini con appunto gli avanzi della carta che avevo utilizzato nel negli altri lavori qui un altro piccolo quadernino qui c'è un altro ancora con i quadretti un po più piccoli qui gli ho fatto un'altra taschina e qui l'ultimo quadernetto e finisce così è piccola piccola ma veramente cicciona può essere in questo caso è tutta di riciclo forse non è il caso di regalarla ma se dovesse venirmi voglia di fare qualche regalino posso eventualmente riprodurla utilizzando materiali nuovi non riciclati e magari con un moschettone può essere utilizzata come come portachiavino insomma non tanto per scrivere perché troppo piccolina forse converebbe farla un pochino più grande se la si vuole utilizzare per prendere qualche appunto per tenerla in borsa con questo io ho concluso qui ci sono tutti i miei lavoretti fatemi sapere se vi interessa qualche tutorial per vedere ad esempio come ho creato queste 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 taschine con il borsellino insomma se vi interessa qualcosa fatemelo sapere che vi creo il video tutorial probabilmente questo lo farò comunque ma fatemi sapere ciao e a prestissimo